Dopo settimane di intensi confronti è stato firmato l'accordo sul moscato da parte della Commissione Paritetica, l'organo composto da una parte industriale e dalla rappresentanza agricola e presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura Claudio Sacchetto. Nella notte tra il 4 e 5 settembre, produttori e industriali hanno trovato l'intesa, valida per la vendemmia 2013, per le uve dalle quali nascerà l'asti spumante di OCG e il moscato d'asti di OCG. L'accordo prevede per quest'anno una resa di 95 quintali per ettaro, con la possibilità di applicazione del meccanismo blocage-deblocage per ulteriori 5 quintali. Il compenso patuito dei grappoli resta invariato poiché l'accordo dello scorso anno aveva valenza biennale. Nell'intesa raggiunta la scorsa notte inoltre, sono previsti in primo luogo un contributo di 1 euro al quintale per il fondo di parte agricola costituito nel 2010, di cui 70 centesimi sono indirizzati ai produttori per la gestione dell'accordo e i restanti 30 vanno ai vigneti con particolari difficoltà di cultura individuati dall'apposita commissione, mentre un altro euro va al consorzio per le attività istituzionali di promozione e tutela. Da segnalare infine la possibilità di destinare altri 20 quintali per ettaro da mosto parzialmente fermentato per succhi o mostarde o altre produzioni. I pagamenti come sempre avverranno per il 60% entro dicembre e per il 40% entro giugno.